chi è o cos'è per te la tua mamma una persona speciale una persona bella brava e speciale allora la mamma per me è un dono la mamma è quella che ci fa vivere la mamma è quella che ci ha fatto nascere la mamma è quella che ci nutrisce la mamma è quella che cucina la mamma è quella in cui vogliamo bene la mamma è quella in cui ci facciamo fare le coccole la mamma è quella in cui ci vogliamo bene può essere tanto costo secondo me per me la mamma è la cosa più importante della mia vita perché ci fa da mangiare ci porta a scuola ci fa imparare tante cose perché ci porta a scuola ci lava i vestiti ci compra da mangiare una cosa che ti vuole bene una mamma una mamma brava gentile e basta cosa ti piace fare con lei di solito d'estate andiamo sempre in piscina insieme quando mi abbraccio mi racconta le favole di sera a parlare e a giocare certe volte quando ci coccoliamo di solito nel letto a volte nel divano a volte dopo che abbiamo fatto una specie di rabbia una specie di lotta mi piace giocare mi piace andare a nuoto andare a danza con lei andare al supermercato andare a comprare i vestiti e giocare quando noi giochiamo a uno giochiamo anche in uno che tipo ci sono dei puffi e noi dobbiamo noi dobbiamo giocare guardare il colore è uguale solo che in un modo diverso a giocare con il pongo giocare con il pongo cosa costruisci giocare con il pongo cosa costruisci no quando è il compleanno di mio papà abbiamo fatto tipo una cenetta per mia mamma e mio papà quando la tua mamma è felice? quando io non la faccio arrabbiare tipo quando io la ascolto quando a me mi vede felice quando è felice il suo bambino è felice che il bambino è contento è felice è felice quando? è felice adesso sempre sempre tranne quando la faccio arrabbiare quando invito qualcuno a mangiare o quando faccio la brava e prendo i bambini cosa vorresti dire alla tua mamma? non avrei voluto una famiglia più brava come questa allora sa che all'inizio è un po' dura riconoscere la famiglia eccetera però dopo ci si abitua e allora sappiamo le vere cose della famiglia ti voglio bene ti voglio bene ok che non ho mai avuto una mamma così come la sua che è una bravissima mamma che è dolce e carina ti voglio bene come un cuore grande grande con scritto ti voglio bene che li vorrei bene? macchinini ragazzi ragazzi Grazie